musica 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 uh raga mi faccio la finca no dai spostati per indietro porca diga no no musica e la testa e allora è la testa questa e sopra anche lui è stato in videogiochi raga mi seguo Guardatemi la camp, pliz Sì, sono entrambi solo i giochi Mila giochi? Arrivo, arrivo È un po' smirato, secondo, secondo Vabbè pazienza è bella Guardate 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 probate è sull'altra bomba E' là Ma perché fai ste stronzate? Perché ste stronzate poi? Sono morto io, abbiamo perso, abbiamo 4 contro 1 Porca puttana Va No, 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 no. Ma la cazzo di valkyrie, la minchia, eh? Ah, tutto aperto là sopra, ragazzi, tutto aperto, eh? Eccolo là! Io sono già dentro, eh? Eh, vabbè. Sono morto, arrivo. Ah, adesso sono morto, mi serve aiuto, mi serve aiuto. Qua. Ah, che vero, che vero, che vero. Qua. Sono morto. Eh, vabbè. Oddio. Cosa ho fatto? Eh, ho bene da voi, però. Sì, sì, tunnel, tunnel. Io entro, ragazzi. Mi ha prego un cazzo. Tra i due uno, sono dentro. Io sono entrato, eh? Io sono dentro, raga. Raga, li trovo scuro. Raga, siamo dentro io. E lui? Che cazzo? Siamo dentro. Raga, si. Cosa, è il diffusor? Sì, spartano, spartano. Sì, spartano. Ah, f*****. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. I'm not going to die No, lì c'è l'ho passato, guarda, guarda Non muore Dove sono? Eh vabbè Ma la volta è aperta? Non lo so Non credo No 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 Già ieri ho fatto un clash assurdo qua Dietro dietro Non è dietro a scala Stava il ping Banschieri copri il metano Ma stiamo scherzando? C'è un altro eh Ah ok Ma chi? C'è un altro cucina ragazzi C'è un altro cucina Dentro Appena si offende me la faccio Banschieri copri il metano Notchieri copri il metano Chissieri copri il metano Sì Nei Evitavo C'è un altro Sì Eh si mi sa che te ne trova un'altra forse ragazzi ho il diffuser qui è dentro è dentro è dentro è in bomba grande appena un altro buccio appena non c'è te sta parlando dietro la bomba sta parlando dietro la bomba a se c'è ancora dietro la bomba potresti fare di giro si sa dire cosa sarà giusto la vista a destra io l'ho vista la vista la vista la vista la vista la vista capite che lo faccio a me le giro lo faccio oh yes se c'è ma dove l'ha ucciso garage c'è anche sledge si è in fondo però Ok Non so neanche come sto facendo le heal Perché mi sento lentissimo Ma la precisione ce l'ho top tipo Non so perché Lo sto a cercare adesso Benone è fuori Dov'è Sledge? Fuori sa anche lui Dov'è Sledge? Non sento Non sento raga non so dove Sledge Non l'ho sentito Dov'è Sledge? Le due bombe Vabbè dubito riusci a fare qualcosa però Vai 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 Se non si blocca sul cazzo di piante Piccata la rotation Ma si 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 Una sinistra Uno pensò che se ne apri Cioè ne apporta la sinistra Non so dove cazzo è Oddio Eh non so dove è No so dove ci si si Quiero No so dove c'è Grazie.